Come nasce questa idea? L'idea nasce per fare un libro in verità sul vino greco di Gerace e di Bianco. Poi ci siamo accorti che sostanzialmente non c'era moltissima letteratura, allora abbiamo tentato di osare su un argomento che come sappiamo è conosciutissimo, è stato scritto di tutto. Abbiamo abbinato una storia tra le storie, partendo appunto dalla Bibbia, dove il vino è protagonista, con una carrellata di quadri che vanno dal periodo medievale fino all'arta contemporanea, per come gli artisti da Michelangelo a Caravaggio a Degas a Klimt hanno voluto proprio dedicare al vino una parte della loro arte, fino all'intelligenza artificiale perché è stato già prodotto un vino totalmente da un algoritmo. E' stato creato in Francia sulla base di una serie di calcoli che hanno previsto una registrazione di 850.000 immagini e 350.000 informazioni, hanno sostanzialmente tirato fuori un algoritmo che ha sostituito l'enologo nella quantificazione del tipo di uva e di mosto da scegliere e il sommelier per quanto riguarda poi la parte della degustazione. E' stato un esperimento di 100 bottiglie vendute a 30 euro e sono state vendute tutte ma a 300 euro perché sono diventate poi oggetto di collezione. Nel suo libro dà molti numeri anche su chi produce di più, chi produce di meno, chi esporta, chi importa. Sì, l'Italia è diventata adesso il paese che produce più vino al mondo mentre la Francia è quello che ne esporta di più. Gli Stati Uniti sono il paese che importano più vino al mondo e la Moldavia, che è un piccolo paese, ha la più grande cantina al mondo, lunga 130 km, che è un'ex miniera. Sono numeri importanti, anche l'UNESCO è entrata ad osservare il vino, per esempio l'alberello di Pantelleria, la vite e il patrimonio UNESCO come sono anche i grandi vigneti della Francia, del Chianti, senza parlare poi del famoso Prosecco della catena. Sarebbe interessante spendere, diciamo, come Calabria, quella di diventare famosa nel mondo come quelli che hanno sostanzialmente inventato il vino moderno perché proprio i rienotri, grazie appunto a questo sistema di coltivazione della vite come l'abbiamo fatto noi in Calabria, hanno inventato un sistema moderno che i greci non conoscevano perché i greci conoscevano la vite che cresceva naturalmente sugli alberi.